Farmacisti pronti a scendere in campo per le vaccinazioni, in previsione della campagna più massiccia che riguarderà tutta la popolazione. Intanto in arrivo in Abruzzo ci sono per la prossima settimana 16.000 dosi extra di vaccini Pfizer, mentre riprende la somministrazione di AstraZeneca. Sono numeri importanti quelli dei farmacisti. In Italia ce ne sono 75.000 di professionisti che operano in 19.000 farmacie. In Abruzzo ci sono 525 farmacie, tra pubbliche e private. Sul tema è intervenuto il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi, che insiste sul fatto che il ruolo del farmacista va comunque chiarito e ci si aspetta che il nuovo decreto apra di più a questa categoria. Ad oggi infatti la normativa vigente consente di effettuare i vaccini nelle farmacie, sotto la supervisione di un medico assistito da personale sanitario. Il farmacista può rientrare in questo settore se opportunamente formato? In altri paesi europei, vale la pena ricordarlo, esiste già la figura del farmacista vaccinatore. Assofarm, intanto, ha già avviato dei percorsi di formazione per i farmacisti. In Italia ancora non esiste una norma che possa abilitare i farmacisti alla vaccinazione. Le norme esistenti fanno sì che la farmacia sia il luogo dove vaccinare con la sorintendenza di un medico, previo, accordo con le organizzazioni sindacali e gli organizzazioni professionali. Cosa complicatissima. Cosa complicatissima. Si supererebbe tutto dando la possibilità ai farmacisti di vaccinare. Il coinvolgimento dei farmacisti aumenterebbe di molto la capacità vaccinale. Rifacciamo il conticino che facciamo noi delle farmacie comunali in questi giorni. 19.000 farmacie su tutto il territorio nazionale. Se ogni farmacista potesse vaccinare 13 pazienti, 13 cittadini al giorno, con una giornata 250.000 vaccinazioni ci sarebbero. Quindi la metà del piano previsto per la vaccinazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri. E risolverebbe in gran parte tutti i problemi di natura strutturale e organizzativa che adesso ci sono per cercare i hub, i posti. E quindi noi speriamo che nel decreto di oggi, nel decreto che emanerà il Presidente del Consiglio oggi, ci sia un cambiamento di passo e ci sia questa possibilità. Certo, i farmacisti dovranno essere formati, dovranno avere spazi doni, dovranno avere tutta una serie di garanzie per la salute loro e dei cittadini. Ma con il decreto sostegni pare che ci sia qualcosa di nuovo e pare che ci sia la possibilità che anche il farmacista possa vaccinare così come avviene ormai in tutta Europa. Grazie a tutti.